Buongiorno a tutti e bentrovati di nuovo sul canale di Shot Gaming con il vostro bio. In questo momento sto leggendo un annuncio che riguarda un update live su tutte le piattaforme e solo per PC direttamente dal forum di For Honor del quale troverete il link in descrizione. Partirà oggi pomeriggio, anzi per la precisione è partito alle 8 di questa mattina orario oeste, quindi credo alle 8 in qualche parte dell'America, non riesco in questo momento a capirlo, il mio inglese è quello che è. Allora, versione 1.03, live update 1, all platforms, per tutti gli eroi, i guard break simultanei avranno come reazione di buttare indietro entrambi gli eroi, entrambi i giocatori. Se dopo questo si continuerà a fare simultaneamente più guard break, non verranno connessi. In poche parole, da quello che si legge, tolgono la possibilità a tutti quelli che spammavano guard break, guard break, guard break, di continuare a farlo. Mi pare di aver letto, non c'è scritto ogni quanto, ma secondo quello che c'è scritto qua, quello che si legge, credo che ogni due, cioè fai un guard break, se lo fai un'altra volta, contemporaneamente, non riesci a connetterlo, non riesci a connetterlo, vieni spostato indietro, proprio da te stesso, del tuo guard break. Per quanto riguarda invece Warlord e le Valkyrie, c'è veramente una cosa impressionante. La stanza, la stance della posizione dove il Warlord blocca tutti gli attacchi, non potrà più essere istantanea, ma avrà un ritardo di 200 millisecondi dopo l'input, dopo la pressione del tasto, per quel tipo di difesa, per la difesa completa, difesa totale. Questo perché? Perché loro, gli sviluppatori, non avevano assolutamente intenzione, da quello che leggo, di rendere questa abilità reattiva, ovvero istantanea. Mi sembra che sia un buon fix, diciamo. Inoltre, questo fix qua servirà a sovrascrivere ulteriori bug presenti in questo tipo di difesa. La Valkyrie, invece, sapete quando vi fa il tackle con la spallata, con lo scudo, scudo e spallata? Bene, lo shield take o il full block, ok, avrà la stessa delay della full block stains del Warlord, 200 millisecondi dopo la pressione del tasto. Questo servirà anche, c'è scritto, a sostituire ulteriori bugs. Il Conqueror, oddio, una delle mie classi più odiate. Allora, questo fix servirà a risolvere molti bug. Allora, l'attacco pesante, ah, l'interruzione dell'animazione dell'attacco pesante del blocco, ok, avrà un ritardo dall'immediato, adesso è immediato, a 100ms, 100 millisecondi di delay dopo la pressione del tasto. Io ve lo leggo in inglese, poi datevelo a leggere anche voi. To fix some replication bugs, the heavy attack interrupt block animation has been delayed from immediate to a 100ms delay after the input. Mi sembra abbastanza buona, meno male, c'erano troppi conqueror che continuavano ad utilizzare l'attacco pesante con l'interruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Il Cansei invece avrà un fix, sarà fissato un bug che causava il suo attacco, quello in alto, l'attacco pesante in alto, che è un bloccabile. Ah, praticamente lo potevano stoppare. Fix the bug to cause the unblockable top Eevee to cast a black into yourself. Non riesco a tuturlo bene, andate a leggerlo, avrei piacere, perché c'è scritto praticamente che hanno corretto un bug sull'attacco pesante dall'alto, quello in carica, che quello non bloccabile, ah, che colpiva due volte, e di non essere in grado di essere parato, ok, sì, sì. Boh, non ho capito. Solo per PC invece, praticamente, i giocatori con grafica integrata in tel sotto i requisiti minimi, adesso lo possono andare oltre il messaggio di avviso, piuttosto che avere l'uscita dal gioco. Cioè, piuttosto che essere buttati fuori dal gioco, si può continuare a giocare andando oltre l'avviso. Come richiesto dalla comunità, la schermata post partita esce da... Ah, come richiesto dalla comunità, la schermata post partita di uscire dal... quello di uscire dal desktop è stata rimossa, perché molta gente ci prevedeva per sbaglio. Quindi dopo la partita ti veniva fuori, esci dal menu come gruppo o singolo ed esci dal menu ed esci dal desktop. Quella di esci dal desktop è stata rimossa. Ah, un aperito di memoria che avveniva in circostanze specifiche con UPNP, con nessuna UPNP, è stato risolto. Non so di cosa parlassero. Hanno migliorato il rinnovamento dell'FK Farmer. Bene ragazzi, questo è tutto. Tutto quello che riguarda questo piccolo hotfix, che mi sembra molto importante, soprattutto per gli spammer Valkyrie e Conqueror, nonché per chi col Warlord aveva quelli che abusavano del full block damage in posizione di guardia completa. mi sembra abbastanza, diciamo, importante come hotfix. Diciamo che quello che secondo me... Ah, scusate, ho letto male prima. Quello che avevo associato a Kensei, chiedo scusa, era dello Shugoki, ovvero hanno corretto un bug che sull'attacco in carica ti permetteva di colpire due volte e di non essere parata. Non l'ho ben capito, andatevelo a leggere ragazzi. Scusate, ma il mio inglese è quello che è. Però mi sembra anche questo sia praticamente quando ti attaccavi in carica poteva colpire due volte. C'era questo bug qua che ti prendeva due volte quando faceva un attacco in carica. Vabbè. A me sembra comunque un hotfix molto importante, soprattutto per chi abusava del guard break e per chi abusava di queste due cose del Warlord, ovvero l'equipaggiamento in full dano da blocco, full block damage, con la posizione istantanea della difesa totale del Warlord e la Valkyria che faceva quando la carica con lo scudo mi sembra abbastanza un hotfix importante. Vi rimando al link diretto che inserirò nella descrizione di questo piccolo video, al link diretto sulla discussione sul forum di Ubisoft. Mi raccomando, restate aggiornati. Io sto cercando di avere informazioni in diretta, dirette proprio da Ubisoft. Spero di riuscire a ottenere qualcosa di importante per tutta la community italiana, per voi che mi seguite. Grazie mille, ci rivediamo alle due e mezza di questo pomeriggio per la live pomeridiana che durerà fino alle 5, più o meno 5, 5 e mezza. Ciao ciao, dopo! Ciao ciao!